Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del giorno, benvenuti all'Occhio ai giornali che tra poco sfoglierà insieme a voi i titoli delle notizie più importanti tratte dai due quotidiane che troverete in edicola, il resto del carino è il Corriere Adriatico. Allora andiamo a vedere subito il santo del giorno, poi il tempo, il santo di oggi è Santa Caterina di Svezia, il sole è sorto alle 6.02, tramonterà alle 18.26. Il tempo, allora secondo il bollettino della protezione civile delle Marche, per quanto riguarda la giornata di oggi avremo una situazione di neve su tutto l'arco appenninico e pioggia mista neve invece lungo la costa, questo soprattutto nella seconda parte della giornata, quindi nel corso del pomeriggio, dove i fenomeni interesseranno anche la porzione costiera e primo collinare centro-settentrionare. Il limite delle nevicate sarà attorno ai 200 metri, ma localmente in occasione dei rovesci più intensi anche a quote pianeggianti. Tuttavia gli accumuli ovviamente non saranno significativi, nel senso che non avremo i centimetri di neve che ci impediranno, così come è successo anche in altre situazioni, in altri anni, di muoverci, ma insomma saranno più che altro, faranno l'effetto forse buon umore, nel senso vedere un po' di neve che cade forse ci riscalderà il cuore, ci toglierà per un istante dalla mente il solito chiodo fisso che tutti quanti noi abbiamo in questo momento. Domani, le previsioni per domani sono più o meno simili a quelle di oggi, avremo precipitazioni sparse a carattere di rovescio più insistenti sempre nelle zone interne del settore centro-settentrionale della regione, con il limite delle nevicate sempre attorno ai 200 metri, localmente anche a quote di pianura e a 400 metri invece nel pomeriggio, perché man mano che andremo poi avanti domani nel corso della giornata, le temperature aumenteranno, i venti saranno da nord con raffiche fino a vento forte. Giovedì invece il tempo continuerà ad essere perturbato, ma per effetto delle temperature che saranno in lieve aumento, la pioggia mista neve che ci sarà tra oggi e domani diventerà pioggia su tutta la costa, mentre resterà neve sui monti, perché comunque le nevicate che inizialmente anche giovedì mattina saranno intorno ai 400 metri, quindi in collina, poi aumenteranno e arriveranno fino a 800 metri in serata, quindi i monti, le cime dei monti nostri, dal Carpegna fino ai Sibillini, insomma avranno il manto nevoso che è destinato a salire in tutte queste tre giornate di maltempo. Ancora instabilità poi per la giornata di venerdì, miglioreranno invece al fine settimana e ritornerà, diciamo, il tempo buono anche se debolmente instabile comunque fino alla prossima settimana, ma di questo poi ne riparleremo nei prossimi giorni. Intanto andiamo a vedere, come di consueto, le pagine dei quotidiani, partiamo dal Corriere Adriati, anzi dal resto del Carlino e il titolo d'apertura è per il 51enne pesarese che è stato stubato e dunque è il primo, anzi, degli stubati nelle Marche. Aurelio Patregnani che racconta, io ce l'ho fatta e sono rinato dopo l'incubo, i sanitari sono stati, dice, straordinari a loro devo tutto, ma la fotonotizia invece è per Bertolaso ad Ancona che è atterrato ieri con l'elicottero al porto, ha incontrato il presidente della regione Ceriscioli, Ceriscioli che lo ha invitato dopo aver parlato con il suo omologo Fontana, ha chiesto una mano a Bertolaso, sapete Bertolaso sta realizzando alla Fiera di Milano un ospedale con posti di terapia intensiva e la stessa cosa vorrebbe fare Ceriscioli con 100 posti letto anche qua, ma come vedete dal titolo servono 12 milioni. Poi le altre notizie, sempre rimanendo in tema di terapia intensiva, nuovo reparto Covid-19, Marche Nord gioca l'ultima carta, poi l'intervista a Burioni che sconfessa le bufale, l'ultima in ordine di tempo, ma ce ne sono tantissime che girano quindi fate attenzione. L'ultima che dice che gli extracomunitari sono immuni perché hanno il vaccino contro la TBC, lui Burioni dice venite a San Raffaele dove mi trovo io in questo momento e vedrete che non è assolutamente così. Poi Don Giovanni Paolini, il prete di 85 anni che benedice in cadaveri e dice neanche in guerra una cosa del genere. Poi il decalogo dei medici, ho i sintomi ma non mi fanno il tampone, ecco i consigli. Il Corriere Adriatico, mi servono 12 milioni, sono le parole di Luca Ceriscioli, fallisce il sopralluogo al porto con Bertolaso per il nuovo ospedale dunque ipotesi pala indor oppure una nave ormeggiata al porto, la nave Rossi. Ceriscioli dice ho scritto agli imprenditori per costruirlo però ho bisogno di soldi, oggi, scusate, ogni giorno ha la sua missione. Poi a centropagini invece il ritorno alla fede, il potere del virus, in un tempo buio la fede è ancora un'ancora di salvezza, la religione come sostegno per chi soffre e per chi deve sperare. Poi l'intervista ad Acquaroli, Ceriscioli promosso, mica detto, mentre sotto, altre notizie in breve, sempre in prima pagina, ad Ancona l'appello bipartisan, salvate il consiglio con riunioni online, a Pesaro il 51enne migliora e dice riabbraccerò la mia famiglia, a Cattolica invece Cattolica e Gabiccio il confine presidiato con le transenne. 12 milioni subito, parte la grande raccolta, nuovo ospedale ad Ancona, servono soldi privati, ieri il sopralluogo di Bertolaso con Ceriscioli, ci sono 24 ore di tempo per decidere, poi bisogna entrare nella fase operativa perché la struttura va realizzata in 10 giorni per alleggerire i reparti di terapia intensiva del polo di Torrette di Ancona. Ha detto il Presidente Ceriscioli, un progetto del genere non possiamo farlo con le risorse pubbliche, non perché non abbiamo i 12 milioni necessari a realizzarla, ma per la velocità. Sappiamo che il pubblico anche nell'emergenza ha tempi troppo lunghi, basti pensare all'ospedale di Amandola che finalmente ha visto la firma del contratto, ma ben tre mesi dopo l'aggiudicazione, insomma la burocrazia che come al solito fa danni. Neonato positivo invece dopo il trasporto da Urbino si cerca di capire come è avvenuto il contagio, un neonato positivo al coronavirus, sono scattati tamponi e gli eventuali isolamenti tra il personale sanitario dell'ospedale pediatrico salesi, un atto dovuto dopo che il piccolo era arrivato ad Ancona e da Urbino per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. L'ospedale materno infantile di Ancona intanto sta ricostruendo la filiera dei contatti per capire come sia stato contagiato il neonato trasferito dal nosocomio da quello di Urbino, dove è nato il 12 marzo per un intervento chirurgico e poi risultato positivo al Covid-19. Fallito il sopralluogo al porto il Corriere Adriatico, ipotesi pala indoor oppure su una nave. Bertolaso è arrivato ad Ancona con il primario della rianimazione di Lodi, no per l'ex Carbonile e l'ex Tubimar. Disponibile invece il traghetto a F. Claudia, un'ispezione anche alle Palombare, scartato invece l'ipotesi di fare questo ospedale al terminal dell'aeroporto Sanzio. La struttura dell'atletica perfetta come dimensioni ed è anche vicina all'Inerca, l'altro ospedale. L'imbarcazione potrebbe invece essere poi spostata nei porti di altre regioni laddove dovesse poi eventualmente servire. Ho scritto a tutti gli imprenditori, mi servono 12 milioni, io non li ho, Ceriscioli è la sfida necessaria, l'ospedale subito, tra dieci giorni, quello che abbiamo infatti non basterà. Il senso delle parole è che nelle marche dei mali estremi, l'estremo rimedio è un maxi ospedale di emergenza da 100 posti letto di terapia intensiva perché, questo era il senso delle parole del governatore, tra dieci giorni, secondo le mie previsioni, tutto quello che possiamo convertire negli ospedali potrebbe ancora non bastare. Scrive Andrea Taffi, nel giornale di questa mattina non abbiamo alternative, secondo le mie previsioni. Stemo la follia della gente al piano, ho visto un gruppo di 20 persone in piazza e si domanda, hanno capito che cosa sta succedendo? Purtroppo ancora no. Fileni, mezzo milione di euro invece, Fileni è l'imprenditore dei polli, della carne, insomma, mezzo milione di euro per i dipendenti e anche per l'Asur, sono 500 mila euro in favore dei dipendenti della regione e dei comuni di Cingoli, Iesi e di Castelplanio. Questo invece è la fotografia di Aurelio Patrignani, Patrignani che ha 51 anni ed è al San Salvatore di Pesaro attorniato dai sanitari. Una foto, ricordo, perché questi, se li ricorderà davvero per tutta la vita, sono i suoi salvatori e lui dice a queste persone io devo tutto, adesso so quanto ho praticamente rischiato. Lui è un bancario, un bancario di 51 anni che è stato estubato dopo dieci giorni di terapia intensiva. All'inizio non capivo, dice lui, la gravità della situazione. Il mio unico pensiero erano mia moglie e mia figlia. Ho visto gente morire intorno a me. E c'è tutta l'intervista che Roberto Fiaccarini ha realizzato appunto con quest'uomo ancora comunque ricoverato. Altri 18 posti letto a Fano, ma servono infermieri esterni, mentre a Villa Fastigi la Beffa, niente infetti e Marche Nord si gioca le ultime carte. L'esternalizzazione del servizio costerà quasi due milioni di euro. Ora voglio abbracciare mia moglie e mia figlia, anche il Correa Adriatico, con Simonetta Marfoglia ha realizzato questa intervista ad Aurelio Patrignani. Qui lo vedete con la moglie Lucilla Venturi. 51 anni, è stato il primo positivo ad uscire dalla rianimazione. Ho pianto quando ho capito ciò che mi era successo. Ringrazio tutta Marche Nord. E poi ancora rallentano i contagi dal resto del Carlino, ma altri 28 ieri non ce l'hanno fatta. Restano alti i decessi in regione, 16 soltanto a Pesaro. Sono 41 i ricoverati in terapia intensiva tra Marche Nord e Urbino. 195 invece i pazienti nelle altre unità. Il dramma e l'emergenza. Le bare sono troppe, saranno depositate nel secondo piano del cimitero dell'Ulivo a Fano. Lo ha deciso ieri il sindaco Massimo Seri. Ieri sono stati inviati i primi quattro feretri all'impianto di cremazione di Ravenna. E poi i controlli, controlli che comunque sono davvero molto serrati. Oggi si fa fatica a non incrociare per la strada qualche pattuglia della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale. E sono sempre pronti a controllare, a fermare, a vedere. E sono anche tante le giustificazioni che si cercano, che cercano di dare quelli che vengono fermati. Alcune reggono ovviamente perché ci sono anche giuste cause come andare a fare la spesa. Ma ce ne sono anche tante che stridono, tante che fanno innervosire perché non si basterebbe guardare ecco queste bare per capire che qui non c'è nulla da scherzare e che quando si esce di casa, quando si esce per andare a fare semplicemente un giro perché non si sopporta l'idea di stare dentro casa, stare qui dentro è peggio. Andiamo a vedere l'altra pagina, pagina 14. Marche Nord, più veloci i tamponi per il personale. Da oggi al lavoro il tecnico specializzato per la riconversione del macchinario. Si punta a riaprire al più presto il pronto soccorso. Ieri registrati altri 16 decessi. Poi la consigliera del PD Conti e la sua famiglia non ritenuti positivi a priori senza testo. Una famiglia con sintomi ma per loro niente tampone, anzi sono positivi d'ufficio. È quello che denuncia la consigliera comunale Maria Rosa Conti del gruppo PD sulla base della propria esperienza personale e qui racconta nel Corriere di questa mattina che cosa le è accaduto a lei e alla sua famiglia. Dicevamo della fede, la fede ritrovata. È una inchiesta che pubblica questa mattina il Corriere Adriatico con due pagine che adesso vi mostro a tutto schermo. Il virus avanza, io prego ogni giorno e la Chiesa si adatta a questa nuova comunicazione con le celebrazioni in diretta streaming e le iniziative lanciate dai siti parrocchiali. L'arcivescovo di Loreto dal Cine dice si può vivere la cristianità anche restando a casa con i familiari. Così i click si moltiplicano e tra l'altro il giornale ricorda anche gli appuntamenti di questa settimana dalla Basilica di Loreto e ricorda anche come ci sono appuntamenti previsti anche qui su Fano TV. L'annunciazione per esempio in diretta in streaming così come il centenario della proclamazione della Vergine di Loreto patrona di quelli che viaggiano in aereo. Quindi sono due appuntamenti che trasmetteremo in tutta la Regione Marche attraverso il nostro canale, attraverso Fano TV e il giornale giustamente lo riporta questa mattina. Poi ci sono anche alcune interviste come per esempio all'arcivescovo di Ancona, Spina, che dice in queste ore riscopriamo i valori della famiglia. A Camerino un signor Massara per la comunità è un altro terremoto ma ci rialzeremo. E a Pesaro invece parla Don Marco di Giorgio, sacerdote della parrocchia di San Luigi Gonzaga di Pesaro che dice qui diamo il giusto valore alle cose. E rimanendo in tema di spiritualità c'è un sacerdote che è Don Giovanni Paolini a 85 anni va a benedire le salme ma neanche in guerra era così. Il rito davanti al cimitero con guanti e mascherine, dobbiamo stare anche a distanza. In una settimana ho visto andarsene decine di persone, una cosa del genere non l'avevo mai vista. Il pericolo c'è e a volte bisogna rischiare in nome della propria missione, lo fanno praticamente tutti i preti. E poi la protesta che raccoglie il resto del Carlino, vergogna, la salma di mia madre trattata come un pacco postale, la camera mortuaria a Muraglia, mia madre è morta questa mattina, racconta questa figlia al Santa Colomba e per tutta la giornata ho cercato in vano di capire cosa avrei dovuto fare per prendermi cura delle sue spoglie. Aveva 87 anni la signora Concetta e viveva a casa Aura. Come altri ospiti ha contratto il Covid-19 che date anche le sue condizioni di salute non le ha lasciato scampo. Ma lo scenario a cui davvero non era preparata la figlia Rosalba è un altro. Il fatto di non aver trovato nelle istituzioni il minimo sostegno. E poi addio a Leone Bonazzoli, il re degli impiantisti, aveva creato la Arbo, era nato a Fano, aveva 90 anni, si è spento all'ospedale di Iesi. Lo vedete in questa foto sorridente. Il riscaldamento sia nelle abitazioni che nelle fabbriche era lui, Leone Bonazzoli, il fondatore della società a Arbo, questo imprenditore che aveva 90 anni, morto come dicevo a Iesi, colpito dal coronavirus. Fanese aveva iniziato la sua attività nella sua città, la città della fortuna, per poi ampliare la sua rete, prima a Pesaro e poi in Puglia, fino ad arrivare a coprire l'intero territorio nazionale con 39 punti vendita. Insomma un colosso nel suo settore. Senigaglia in apnea, in rianimazione solo 10 posti liberi, l'ampliamento deciso nel fine settimana già vanificato dall'incremento dei malati. In arrivo le squadre speciali, all'appello risponde anche il dentista Balicchia, mentre una casa di riposo assediata, allarme Covid tra gli ospiti, San Marcello scatta l'emergenza anche nella struttura di Monte Marciano. Ospedale Ducale a rischio, ci aiuti la protezione civile, appello di Gambini e Foschi, occasione persa da Fazio, Fazio il programma Che Tempo che fa su Rai 2. Qui servono medici e infermieri, contagi tra pazienti e personale ridotto, problemi elettrici, Murg spostato in cardiologia. E sono 35 gli operatori messi in quarantena all'ospedale di Urbino, con una nota firmata dal dottor Claudio Montalbini dell'Asur. Asur intende spiegare l'effettiva situazione dell'area vasta 1 e dell'ospedale di Urbino. E in questa nota c'è scritto che risultano positivi al tampone e sono posti dunque in quarantena 35 operatori sanitari. È logico che essendo la provincia di Pesaro classificata come zona rossa, la possibilità di essere contagiati da Covid-19 può presentarsi anche in molteplici contesti, oltre a quelli lavorativi. E quindi prevenire alla conclusione sommare che l'infezione sia correlata all'occasione di lavoro è un'affermazione non corretta né dal punto di vista statistico né da quello epidemiologico. Ancora dai giornali, dalla rassegna stampa di questa mattina, andiamo sulla pagina del Corriere Pesaro Primo Piano. RSA, Villa Fastigi, mancano i medici e l'apertura slitta. Dopo il soprallogo ieri sulla carta avrebbero dovuto essere il giorno giusto, invece il consigliere Biancani dice è nato un altro problema, non si trova il personale. Ospedale da potenziare a Fossombrone per aiutare le urgenze, i consiglieri di minoranza chiedono alla Regione di potenziare il nosocomio forsempronese. I cittadini no-REMS contestano la scelta del Sindaco che ha chiesto l'utilizzo della REMS per l'emergenza sanitaria. Michele Chiarabiglia ed Elisa Cipriani sottolineano l'urgenza di riaprire i servizi e le strutture in dotazione come le tre moderne camere operatorie. Denunciate 35 persone, anche qui si parla dei controlli particolarmente intensa nonostante la giornata festiva di domenica è stata l'attività di controllo sull'osservanza delle misure di contrasto al contenimento del Covid. Ora chiudono le fabbriche, cassa integrazione per tutti, sempre da Pesaro, valanga di richieste per nove settimane, 6.000 lavoratori solo nella meccanica, sindacati sul piede di guerra per le dilazioni dell'ultimo decreto. Ed è sciopero, si fermano le ditte della Manifattura, accordo invece per l'Arenco. L'agriturismo porta i piatti pronti a domicilio, la nuova stretta sulle attività economiche non riguarda l'agroalimentare che continuerà a lavorare per garantire prodotti freschi e genuini sugli scaffali. Anziani senza fisioterapia è dura, Ivan Cottini con l'emergenza dice anche io non ce l'ho più a casa ma penso alle persone più deboli, io posso farcela da sola, penso invece a tutti quelli dice Ivan Cottini, a quegli anziani che senza assistenza a casa per un tempo così prolungato avranno gravissimi problemi. E poi a Piobico invece paese in luto è morto Bartolucci, Giovanni Bartolucci aveva 60 anni, l'uomo è stato trovato nella sua abitazione a Piobico intorno alle 12.30 da un parente allertato perché non rispondeva al telefono a provocare la morte e sembra che sia stato un infarto fulminante. E poi la grande torre di Fermignano che si tinge di tricolore in segno di speranze e d'unità, ogni giorno gli altoparlanti continueranno a far suonare l'inno di Mameli. Noi ostaggi a Dublino, la storia sul Carlino dove nulla è cambiato, quattro ragazzi fanesi raccontano l'impossibilità di rientrare in Italia, qui la gente continua ad uscire, l'emergenza è presa molto alla leggera, sono bloccati a Dublino questi i quattro giovani fanesi, Carolina Rondina, Domenico Alfano e le sorelle Federica e Gloria Rossi, l'esperienza di viaggio e di vita di Carolina e Domenico avrebbe dovuto terminare oggi, mentre quella delle due sorelle rossi il 12 aprile. Ebbene, a causa dell'emergenza tutti i programmi sono saltati, i voli per l'Italia annullati, i giovani che a questo punto vorrebbero rientrare in Italia non sanno però come fare. Il nostro volo è stato cancellato, hanno detto, e non sappiamo quando ce ne sarà un altro per raggiungere appunto l'Italia. L'ultimo viaggio del partigiano invece avvolto nella bandiera tricolore, Anellino Manocchi aveva 99 anni, scusate, al raduno fanese delle Sardine era intervenuto sulle note di Bella Ciao. Non c'è più posto, il corpo dell'anziano sopravvissuto ai Lager è rimasto a casa da sabato fino a ieri. L'ultima uscita dell'ex partigiano era stata due mesi fa in occasione appunto, come dicevo, delle Sardine in Piazza Miani dove era stato salutato dalle note di Bella Ciao. In quell'occasione Manocchi aveva messo in guardia dai superuomini inviati dalla Provvidenza e invitato i presenti a non cadere negli errori del passato che hanno portato allo sterminio di milioni di persone. Dato l'ultimo saluto al padre, Antonio Manocchi annuncia che da oggi la sua edicola sarà chiusa. Andiamo sulla pagina del 7 del resto del Carlino, vedete la foto del virologo fermignanese Roberto Burioni che spesso in questi giorni, queste ultime settimane è ospite di trasmissioni televisive, Burioni che interviene sulle notizie false, sulle fake news, soprattutto l'ultima che sta girando, quella sugli stranieri che non si ammalano. Lui dice venite al San Raffaele, poi al più presto tamponi a chi è guarito. E poi insomma dice basta bufale, moltissime sono le persone malate ma non sottoposte al tampone, insomma praticamente nel limbo. Non mi sorprenderei se i contagiati fossero cinque volte il numero di quelli conclamati. Ecco perché anche ieri nell'intervista che abbiamo realizzato Massimo Agostini, molto apprezzata anche nel telegiornale di ieri sera, si parlava di numeri falsati, cioè nel senso che sì, quelli che noi abbiamo sono numeri che ci danno, quelli che sono i tamponi, sono i numeri ufficiali, ma visto il diffondersi di come si è diffuso, di quanti sono coloro che si ammalano. Probabilmente i positivi sono molti, ma molti di più e sono ancora in giro. Ora la visita specialistica si fa a distanza, consulti medici gratuiti in videoconferenza grazie al servizio mai soli di articolo 32 Ollus. Ogni colloquio durerà 20 minuti. Ecco come fare. È un servizio, un servizio gratuito in videoconferenza, è attivo da ieri. Questo importante servizio di telemedicina che è stato realizzato. Ora chi avesse bisogno, è possibile collegarsi con un pc o un telefono, un tablet o un notebook, ma bisogna prenotarsi. Ora naturalmente bisogna farsi aiutare. Non credo che gli anziani siano così all'avanguardia da riuscire da soli a fare un collegamento, eccetera, eccetera. Però forse magari verranno aiutati, non so in che modo, ma comunque c'è un numero di telefono sull'arresto del Carlino che potrete prendere e trovare per collegarsi e fare in modo che si riesca in qualche modo a fare questa visita virtuale, visita al computer. Casa di riposo invece, le case di riposo di Mondolfo su 20 ospiti, 16 sono positivi. Il sindaco dice sono preoccupato. Barbieri chiede che i tamponi vengano fatti a tutti gli altri ospiti della struttura. 20 ospiti della casa di riposo nella Carradorini dove appunto ci sono queste 16 persone risultate positive. Tra ieri e l'altro ieri la comunicazione ufficiale da parte di Asur alla COS Marche, la cooperativa che ha in concessione la struttura residenziale. La cooperativa a sua volta ha informato il comune di questi risultati. Preoccupato, si dice appunto Nicola Barbieri, siamo in costante contatto con le autorità sanitarie e la cooperativa e stiamo chiedendo con insistenza all'Asur che i tamponi siano estesi a tutti gli altri ospiti della struttura che al momento non presentano dei sintomi. E poi dalla Valle del Metauro anche le storie diventano on demand. La biblioteca Cometa attiva un numero per ascoltare una favola al telefono. E poi come abbiamo visto la Rocca, il Comune, si vestono di tricolore. Il dono di una società a Mondavia, a Terre Roveresche, in segno di speranza. Insomma con questi monumenti che si colorano dei tre colori della bandiera italiana. Continuiamo a far crescere il sogno di Italo. Raffaella Nannini, la figlia del fondatore di Africa Chiam, racconta la grande passione del padre. È una grande fatica non poter fare il funerale, ma Dio ci ha fatto un grande regalo. Italo infatti è risultato negativo al tampone del coronavirus e questo ci permetterà almeno di allestire la camera mortuaria. Non è morto a causa del virus, per questo potremo appunto allestire la camera ardente. E poi si è spento Giuseppe Furlani, il padre di Stefano, aveva 75 anni. È cominciato tutto con una febbriciattola, poi il ricovero a Senigallia e all'ospedale di Ancona. Anche le assistenti sociali sono in prima linea, da Urbino, aiuti di ogni genere a chi è solo in casa, dai consigli al conforto, alle ricette per chi non sa cucinare, richieste praticamente di ogni genere. Chiamano tutti, anche gli studenti. L'obiettivo è nessuno deve sentirsi solo, nessuno deve sentirsi isolato. Consiglio via web, regolamento in arrivo, a comunicarlo a Massimiliano Sirotti, sarà valido anche per le commissioni. Stiamo parlando in qualche modo di come poter far andare avanti la macchina comunale, tutte le macchine amministrative comunali in questi giorni, così come quella di Fano. Vedete, qui siamo sul Corriere, la Giunta torna al lavoro da remoto, cioè attraverso il computer. Queste sono tutte le immagini delle webcam, delle telecamere, dei computer che riprendono i vari assessori, dirigenti e quant'altro, due tecnici e quattro assessori con il sindaco Massimo Seri, tutti in riunione attraverso il computer e si parlano, così come abbiamo fatto anche noi in una domenica pomeriggio, anche solo per un saluto. Noi l'abbiamo fatto per un saluto, qui invece per lavorare, per organizzare e mandare avanti la macchina amministrativa. Domani c'è la seconda riunione, dopo la commissione bilancio a prepista, il primo atto è la ricezione del decreto ad hoc. Attese lunghe cremazioni anche a Ravenna, invece c'è l'ordinanza firmata dal sindaco di Fano Seri per i defunti da coronavirus, la cassa sarà doppia. Va de Mecum invece per gestire in casi bambini fino a sei anni, indicazioni dall'assessorato ai servizi educativi sulla base dei principi da tempo adottati. I bambini che cominciano a mostrare segni di insofferenza, ma comunque bisogna spiegarglielo. Sogno un mondo giusto, solo briciole per l'Africa. L'ultima intervista a Italo Nalnini nella sua, nella missione della sua vita, è un ricordo di Lorenzo Furlani. In Zambia, Tanzania e Kenya abbiamo 21.000 beneficiari diretti dei nostri servizi. Li aiutiamo a casa loro perché è giusto, ma non basta, occorre un'azione coordinata dell'ONU. Sotto la politica lo piange, un esempio per tutti, PD e Movimento 5 Stelle sottolineano l'importanza di proseguire le sue opere e poi vengono riportate le parole di Carla Luzzi, consigliere comunale impegnata nel volontariato, che definisce appunto Italo Nalnini come una persona straordinaria, un sognatore che riusciva a dare concretezza ai suoi sogni. Un pezzo di cuore che se ne va. In tutti noi il suo esempio lascia una grande traccia. Credo che la settimana africana alimenti un humus di solidarietà e un modo di relazioni, un modo di relazioni sociali e umane che sento mia, conclude Carla Luzzi. Cuore solidale per la sanità, la BCC ha donato 15 mila euro. Siamo a Pergola, l'Istituto di Pergola di Corinaldo sostiene con varie strutture e attrezzature e presidi tutte queste iniziative. Pure Aspec, Proloco Fratte, poi Anstel, Associazione San Filippo, insomma sono tante le associazioni in questi giorni, queste settimane che si stanno adoperando per raccogliere soldi e donarli ai vari ospedali per far fronte alle necessità e alle urgenze. A domicilio pasti e beni di prima necessità, l'Associazione Domomia opera nel compressore di Fano, un grazie ai privati e ai sostenitori. E poi chiusi il Parco della Rimembranza, i Giardini della Rocca, Mondolfo, luoghi cari alla memoria locale, però ora, oggi sono inibiti ovviamente per ragioni sanitarie. Con questo noi chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi, vi ringrazio naturalmente per la cortese attenzione, vi auguro una buona giornata in nostra compagnia, se l'ansia comincia a salire spegnete tutto, ascoltatevi un po' di musica, state lì rilassate sul divano oppure fate qualche cosa che vi può togliere dalla testa tutti questi pensieri. Poi queste saranno giornate senza sole e dunque il grigiore non incupisca ancora di più il nostro stato d'animo. Anzi, speriamo che qualche fiocco di neve, come dicevo all'inizio della nostra rassegna stampa, possa invece alleggerire le nostre giornate e possa farci, possa far riemergere il bambino che c'è in noi e quindi farci sentire magari qualche sussulto di gioia nel vedere qualche fiocco di neve che cade fuori dalla finestra. Allora, noi ci fermiamo qua, dicevo, se volete continuare a scriverci, a mandarci foto, video, segnalazioni per noi molto importanti anche in questo periodo, questo è il numero di telefono e ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia, per tutte le altre informazioni invece come sempre c'è il nostro sito internet occhianonotizia.it. Grazie a voi tutti e buona giornata. Grazie a tutti e buona giornata.